Con l'ultima udienza il GUP di Taranto ha fatto la cernita delle costituzioni di parte civile nel maxiprocesso ILVA. Molte istanze sono state accolte ma ci sono anche numerosi rigetti. Sì, naturalmente, alle più importanti associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e Pislink, sì alle associazioni di categoria e dai sindacati, sì alla Costituzione per gli enti locali, comuni di Taranto e Statte, provincia, regione Puglia, sì al Ministero dell'Ambiente e dai Verdi. In questo ultimo caso è la prima volta che un partito politico è parte civile in un processo, sì anche ad un gruppo di cittadini di Crispiano e ad un'anziana donna, una ultraottantenne che vive al quartiere Tamburi e che teme di ammalarsi. No invece alla Costituzione di parte civile per il Movimento Liberi e Pensanti, così come all'ente di protezione animali, alla Lipu, ad associazioni varie, c'era persino quella dei giuristi democratici e dalla provincia di Lecce. No motivato di caso in caso con l'insussistenza oggettiva delle ragioni, la scarsa rappresentatività sul territorio, la troppo recente costituzione delle associazioni o, come nel caso della provincia di Lecce, dalla distanza dal territorio interessato. Prossima udienza il 22 gennaio 2015.